Nel caratteristico borgo di Castelli, in provincia di Teramo, la ricostruzione post-sisma 2009 procede fortemente a rilento, questo perché su 14 aggregati danneggiati del centro storico ben 10 non hanno ancora presentato la progettazione. Per questo motivo il sindaco Rinaldo Seca ha inviato tramite posta certificata una richiesta di chiarimento ai presidenti dei consorsi, che non hanno ancora presentato la progettazione. Se entro 15 giorni non verrà spedita una relazione puntuale delle attività svolte in programma agli uffici comunali, il sindaco ha annunciato che avvierà immediatamente le procedure di commissariamento. Mi corre l'obbligo di fare un piccolo escursus. Io sono stato eletto nel 2015. Nel febbraio 2017 con la mia amministrazione ho approvato il piano di ricostruzione. Ora, si è compreso molto dei ritardi, nel senso che nel 2016 c'è stato un nuovo terremoto, quindi c'è stata la necessità di una rielaborazione dei progetti. C'era anche un vuoto normativo, che poi è stato colmato con l'ordinanza 31 della De Micheli nel 2018. Si è compreso anche l'ulteriore difficoltà legata alla pandemia, però adesso la misura è colma. Ad aprile arriveremo a 13 anni dal terremoto del 2009. In questo momento su 14 progetti attesi solo 4 sono depositati, quindi 10 ancora da depositare. Questo è qualcosa che non posso più tollerare, la comunità non può più tollerare. Quindi ho scritto una missiva ai presidenti chiedendo 1 lo stato dell'arte, quindi la consistenza leale del lavoro che hanno fatto fino ad oggi. E annunciando che quello è il primo passo verso il commissariamento, nel senso che io acquisirò questa documentazione e dove insieme a una commissione che andrò a costituire verificherò l'inerzia, andremo col commissariamento. La cosa che dispiace è che i fondi ci sono, ma se non si fanno i progetti rimane tutto fermo. Noi abbiamo in programmazione 35 milioni di euro solo per la ricostruzione del 2009. Dico in programmazione perché non è che il governo ti dà i soldi e te li metti lì nel cassetto, giustamente vanno a tiraggio, cioè in base alla presentazione dei progetti te li danno, ovviamente, dal bilancio dello Stato. 35 milioni di euro sarebbero una manna dal cielo per Castelli. Potrebbero veramente fare la differenza tra la vita e la morte di questa realtà. E io, siccome parliamo di finanza pubblica, io non posso più tollerare questo. Sono ritardi dovuti ai presidenti, ai tecnici, anche ai stessi consorziati, anche gli stessi consorziati proprietari che non sollecitano a dovere, anche loro si devono assumere la loro responsabilità. A questo punto io dico basta.